Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia la parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne. Ci sono anche dei pescaresi tra le vittime di un'organizzazione criminale internazionale che ha indotto risparmiatori e investitori ad impegnare consistenti somme di denaro nel progetto immobiliare denorminato Puerto Assul. Il gruppo criminale, scoperto e smantellato dalla Guardia di Finanza di Varese, prospettava la realizzazione di un complesso turistico alberghiero extralusso a otto stelle a largo delle coste della Belize nel atollo Blue Hall, ma in realtà si trattava solo di un castello truffaldino, come lo chiamano le fiamme gialle, attraverso il quale il denaro dei risparmiatori tornava nella disponibilità dell'organizzazione transitando sui conti correnti di Sponda. Se il Papa trova cinque minuti e vuole benedire i miei figli è questo il grande desiderio di Giampiero Parete, scampato alla valanga che si è abbattuta sull'hotel Rigopiano perché in quel momento si trovava fuori dalla struttura. Ospite in collegamento del programma televisivo L'Arena, Parete ha raccontato le ore di angoscia vissute in attesa che la sua famiglia venisse ritrovata tra le macerie del Rigopiano. Poi l'abbraccio con la moglie Adriana e i figli Gianfilippo di otto anni e Ludovica di sei, tre primi ad essere messi in salvo dai soccorritori. Quanto accaduto ha osservato Parete, per me è un miracolo. Poi appunto il desiderio, se il Papa trova cinque minuti e vuole benedire i miei figli, credo ha risposto il conduttore della trasmissione Massimo Giletti che Papa Francesco sa benissimo quello che deve fare, si farà vivo in qualche modo, si farà vivo sicuramente. Questa è la risposta appunto di Giletti. Intanto tra ieri e sabato si sono svolti i funerali di 13 delle 29 vittime di quanto accaduto all'hotel Rigopiano. Nelle varie celebrazioni liturgiche sono risuonati inviti alla fede, nella vita eterna, alla contemplazione del Cristo crocifisso, partecipe della sofferenza umana. Inviti forti alla politica affinché non ci siano altre Rigopiano e gesti come quello di Federica, la figlia di Sebastiano Di Carlo e Nadia Conciamessa che ha portato la sua laurea nella cerimonia funebre dei suoi genitori rivolgendo un duro appello alla politica e note come quelle di Arisa che a Castelfrentano nel Chietino ha intonato la sua all'amore della mia vita ai funerali di Luciano Caporale e Silvana Angelucci che la cantano in auto con i loro figli in un video messo online da questi ultimi e divenuto virale sulla rete. Hanno simulato a Pescara le fasi del primo soccorso in caso di incidente stradale i volontari dell'Associazione Misericordia coordinati nelle operazioni dal governatore Berardino Fiorilli. All'esercitazione che si è svolta nel parcheggio davanti al centro commerciale Arca di Spoltore hanno preso parte anche i vigili del fuoco di Pescara e quelli volontari di Montesilvano insieme alle altre organizzazioni di protezione civile e alla Croce Rossa. La simulazione ha previsto l'estrazione dei feriti dagli abitacoli delle vetture e la prima emergenza in ambulanza. Poi il malore di un cittadino colto da infarto mentre entrava in un supermercato attivando tutte le procedure per la defibrillazione e infine il soffocamento di un bimbo mostrando le manovre per la liberazione delle prime vie aeree. Tutto questo appunto nell'ambito di una simulazione. A Pescara ieri l'anniversario della morte di Emilio Alessandrini il 29 gennaio del 1979 a Milano mentre si recava al lavoro il giudice Emilio Alessandrini fu assassinato durante gli anni di piombo da un commando del gruppo terroristico prima linea. Al magistrato pescarese assassinato appunto sono state intitolate piazze, istituti scolastici ed aulemagne. Alessandrini dopo la maturità classica al liceo d'annunzio di Pescara si era laureato in giurisprudenza all'Università di Napoli. E' pronto a pescare il calendario per le scuole sulla raccolta differenziata che sarà distribuito dalla prossima settimana? L'iniziativa annunciata dall'assessore, scusate è pronto a Montesilvano appunto questo calendario, l'iniziativa annunciata dall'assessore all'igiene urbana Paolo Cilli fa parte della campagna di sensibilizzazione sul tema della corretta gestione dei rifiuti avviata da Formula Ambiente e Sapi. Le illustrazioni presenti nel calendario sono state realizzate dagli stessi alunni. A cominciare dalla prossima settimana distribuiremo in tutte le scuole il calendario 2017 realizzato anche grazie al concorso scolastico Riconosciamo i rifiuti annuncia l'assessore Cilli. Nei mesi di novembre e dicembre, annuncia ancora l'assessore Montesilvanese, abbiamo coinvolto tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado in incontri di formazione per sensibilizzare i più giovani ad una corretta raccolta differenziata. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo sereno con temperature da 4 a 10 gradi e venti deboli. Temperature simili sono previste anche nelle zone interne. Il mare è previsto quasi calmo. Ed è tutto per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, la tascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.